Chi ha già segnato un gol, non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Ecco Dembélé. Cerca il tiro dalla media distanza. E c'è il gol. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Cerca di stinto la volè e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi.